La fine del matrimonio di Claudio Baglioni e Paola Massari, un amore che si è spezzato. Il matrimonio tra Claudio Baglioni e Paola Massari è terminato da anni, ma molte persone si chiedono ancora perché si sono separati. Paola è nata a Roma nel 1955 ed è stata per molto tempo l'ispirazione di Claudio Baglioni. Nel 2008, la coppia ha deciso di separarsi definitivamente, anche se la rottura era maturata diversi anni prima. Secondo alcuni rumors, non ci sono stati motivi particolari dietro la loro separazione, semplicemente Claudio Baglioni e Paola Massari non si amavano più. In maniera consensuale, hanno deciso di chiudere il loro matrimonio e seguire strade diverse, aprendosi a nuovi amori. L'avvocato della coppia ha dichiarato che volevano chiudere una porta e sistemare il passato definitivamente. Claudio Baglioni e Paola Massari si sono incontrati per la prima volta negli anni 70, durante una mostra all'EUR. Era lì per cantare e lei era in gita scolastica. È scoccato l'amore all'istante e i due si sono sposati due anni dopo, in gran segreto. Claudio aveva 22 anni e lei era diventata maggiorenne. Poco dopo il matrimonio è nato il loro figlio Giovanni, che oggi ha 41 anni e ha collaborato con il padre come chitarrista. Paola Massari ha continuato a cantare con Claudio Baglioni nel brano battibecco e ha lavorato come corista in canzoni scritte non solo da Baglioni, ma anche da altri artisti come Bacalov. Attualmente, Paola Massari continua a lavorare nel mondo della musica, ma lontana dall'ex marito Claudio Baglioni, con il quale ha ancora un grande affetto. Hanno condiviso un pezzo importante della loro vita insieme. In conclusione, il matrimonio tra Claudio Baglioni e Paola Massari è finito da anni, ma non ci sono state cause particolari dietro la loro separazione. Hanno deciso di chiudere la loro relazione in maniera consensuale, cercando di proteggere gli interessi del loro figlio. Nonostante la fine del loro matrimonio, entrambi continuano a seguire le proprie strade nel mondo della musica.